e qua ogni volta che piove è così dicevo ma qua ogni volta che piove è così abbiamo fatto anche una raccolta di firme popolare presentata al sindaco per queste esigenze non ha avuto di tener conto perché lui la ritiene di carattere politico e non di carattere cittadino di esigenze per i cittadini della comunità vabbè ma qua perché carattere politico se qua l'acqua corre 204 firme una peticione firmata al comune quando è stata fatta questa peticione? a fine di dicembre ora non si può attraversare ma qua ogni volta che piove è così ma è sempre stato così il tombino? il tombino? il tombino non sa che piove signora qua la famiglia dice che deve ripulire di proprio speso il tombino e non ce la fa ricevere tutta l'acqua che arriva giù prima non potevano uscire tutta la famiglia prima non potevano uscire tutta la famiglia ma qual era il tombino che diceva la signora? non ce la fa ricevere perché è otturato no? quello là? questo qua ah qua sotto c'è qualcosa? c'è un tombino che raccoglie l'acqua con vino e canalizza l'acqua si parte e si va giù ma è ostruato su 70 e qua siamo proprio al centro di Valle Luce qua non è che siamo in campagna attenzione alla macchina prima quando stava a torrenti a qua non ce la faceva a raggiungerla quindi da quanto tempo si ripete questa forse te l'ho già chiesto la petizione quando è che l'avete fatta e non c'è stata nessun tipo di risposta no nessuno ecco che non ne teni conto ecco qua ma sto parco sopra si canalizza mano mano grazie